Ragazzi, la dimostrazione è plastica che non banno mai nessuno. E so rispondere a chi crede di insultare senza dire nulla, no? Ho fatto un vistio, che può piacere o non piacere, però almeno devi entrare nel merito. Questo mi scrive, capisco che non capisci nulla, ma nulla, proprio niente. Al che io ho risposto in maniera abbastanza fin troppo cortese. Ho detto, ovvero Rizzo che è stato a ruolo parlamentare con i verdi di Gretina, è un amico di Gretina, dovrebbe salvarci? No, spiega nel merito se sei capace, invidi di dire non capisco, illuminami. Cioè la gente che si, questo Franco qua, che si mette lì a dire che non capisci, però senza motivare, mi sarebbe piaciuto, non capisci per questo, 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 questo e questo. Questa è una persona intelligente fa. Perché a me non rispondono mai poi gli hater? Perché io gli smonto subito sul nascere. Di solito un hater ti attacca senza mai motivare, perché non c'ha motivazione. Se tu sei una persona trasparente come sono io, poi ci sono altri che ce ne sono di cose da dirgli contro. Però io sono molto trasparente, quindi è difficile che un hater mi attacchi, perché io gli rispondo senza nessun pello sulla lingua. Come ho fatto con questo? Capite come smontare gli haters? Entra nel merito, caro Franco, poi ne riparliamo. Rizzo è stato europarlamentare con i Verdi, del Nord addirittura, è un amico proprio di Gretina, quello dovrebbe salvarmi. E gli danno spazio in TV, a Visione TV. Questo se non lo capisci non so che farci.